Innanzitutto il cibo è piacere e il piacere può portare alla salute, quindi se noi riusciamo a bilanciare ciò che mangiamo con le analisi che abbiamo da fare, noi possiamo vivere in tranquillità. Iniziare il nuovo anno dopo i fasti delle feste in salute. Due così le analisi per verificare il personale stato di salute a caccia di eccessi, suggerite dal dottor Pierluigi Rossi, medico specialista in scienze dell'alimentazione. Due esami in particolare, non c'è bisogno di andare a fare esami, colesterolo innanzitutto, ma soprattutto la proteina C reattiva. Quando la proteina C reattiva è alta vuol dire che siamo in uno stato infiammatorio e la senescenza, o meglio l'invecchiamento, è quando abbiamo la proteina C reattiva alta. Quindi iniziare l'anno con una proteina C reattiva bassa vuol dire vivere a lungo e poi cercare un'altra molecola, l'omocistena, che è molto più aggressiva del colesterolo e dei trigliceridi. Quindi due analisi semplici per la salute tutto l'anno. Ha fatta però una richiesta specifica al medico curante? Ha fatta una richiesta dal medico curante oppure anche una persona può andare in un istituto privato e farsi queste tre analisi. Poche analisi ma mirate.